Ti svegli ed è già sabato 28 maggio e pensi, oggi c'è la mostra a Frara con le installazioni di Stefano W. Pasquini dal titolo Aiutatevi che sono messo male! Dentro la porta degli angeli, rampari di Belfiore 1, angolo corso d'Ercole d'Est e Ferrara, fino al 12 giugno. Soccia che mostra! Il tema della mostra è la crisi economica, sociale e culturale che il nostro paese sta affrontando. Il mantra, aiutami signore che sono messo male, è una citazione dell'ormai noto Angelo Rizzi che con questa frase chiedeva l'elemosina nel centro di Bologna. Interpellato dall'artista, Rizzi si è detto entusiasta dell'uso della sua frase per fini artistici. Soccia che mantra! Uno dei tanti punti forti della mostra è un'installazione costituita da 10.000 strane banconote stropicciate che da una parte vedono le figie di un cane, dall'altra lavoratori di una fabbrica. Pasquini si rifiuta di dare un'interpretazione di quest'opera, lasciando al fruittore la decisione del suo significato, ma certamente affiancare operai e cani in un momento di crisi non lascia troppo spazio all'immaginazione. Soccia che mostra di bravura! Per autofinanziare virtualmente il progetto, Stefano W. Pasquini ha invitato una serie di musicisti a donare una canzone per un cd compilation musicale intitolato Canzoni che costano un po' meno del solito, 23 brani di cui alcuni inediti, una compilation in edizione limitata che non può mancare in nessuna collezione musicale o artistica. Soccia che ci dì mostruoso e Soccia che mostra! Canzoni che costano un po' meno del solito,